Io non so quanto dura una stagione, quanto deve durare un cambiamento, però mi rendo conto che dobbiamo anche uscire dall'idea di una Sicilia che a volte fa le cose in maniera passeggera e svanisce assolutamente tutto quanto. Noi abbiamo costruito in questi cinque anni un patrimonio fatto di idee, di progetti, di cose fatte, di realizzazioni e soprattutto di un orgoglio di appartenenza alla nostra terra, tra i nostri giovani. Questo ormai è il risultato forse più di successo che siamo riusciti ad ottenere. Vogliamo continuare su questo perché non vogliamo fermare il cambiamento. Continuare per noi significa fare un passo più in alto, un passo più avanti rispetto a quello che già abbiamo realizzato. Non fermarsi neppure davanti a qualche gesto che si è verificato nel corso di quest'ultimo periodo e degli anni che forse voleva scoraggiare tutto questo. Questo ci ha dimostrato soltanto che eravamo sulla strada giusta. Non ci fermeremo assolutamente mai, a prescindere l'idea è quella di capire che il cambiamento può in qualche modo a volte anche avere delle frizioni, avere delle reazioni che non necessariamente sono positive. Ma bisogna andare avanti a testa alta come abbiamo fatto finora e continueremo a fare.